come mettere in staking Ethereum o qualsiasi altra criptovaluta all'interno di Crypto.com quindi anche Bitcoin, anche Solana per avere degli interessi passivi semplicemente detenendo queste criptomonete quindi dobbiamo avere l'app di Crypto.com e la prima cosa che dobbiamo fare per poter seguire questo tutorial passo passo è andare in basso, cliccare sul link dove possiamo registrarci a Crypto.com e una volta che ci siamo registrati dobbiamo, se vogliamo ottenere delle percentuali molto interessanti come quelle che vi faccio vedere all'interno di questo video, ottenere almeno la carta Royal o Jade quindi significa che dobbiamo investire essenzialmente 3.500 euro in Crow se no abbiamo la possibilità di detenere altre carte che abbiamo già recensito sul canale quindi in basso vi lascio il link per poter capire come effettuare la scelta della migliore carta per voi abbiamo per esempio la carta Ruby rossa che con 350 euro ci dà dei grossi vantaggi oppure possiamo prendere quella gratuita a 0 euro in ogni caso avete il link in descrizione per potervi iscrivere a Crypto.com e avere anche un bonus di benvenuto di 25 dollari scegliete la carta che preferite una volta effettuata la registrazione e nel caso aver comprato i Crow per poter ottenere questo bonus e quindi avete scelto la carta, ci ritroviamo all'interno dell'app naturalmente il primo passaggio fondamentale è comprare la criptovaluta di nostro interesse per poterla mettere in staking nella sezione earn ora da questo punto di vista abbiamo fatto un video che si intitola Criptovalute come iniziare dove spieghiamo come comprare all'interno di Crypto.com comunque in ogni caso vi basta selezionare la cripto di vostro interesse immaginiamo Ethereum quindi ci cliccate su e una volta fatto questo cliccate compra Ethereum vedete il pulsante qui in basso e potete decidere essenzialmente se comprare con la vostra carta di credito o carta di debito se effettuare un bonifico all'interno del fiat wallet di Crypto.com per poter avere i soldi per comprare oppure naturalmente altre opzioni che non vi faccio vedere nel dettaglio perché c'è il video apposito ma generalmente o facciamo un bonifico o usiamo una carta una volta che abbiamo la nostra altcoin, il nostro token possiamo essenzialmente mettere in staking all'interno di Crypto.com nella sezione Earn quello che vado a fare infatti è cliccare sul leoncino qui in basso al centro e avrò una serie di diciture come potete vedere nella sezione finanze c'è il supercharger abbiamo fatto un video sul supercharger vi consiglio di andarlo a vedere perché abbiamo raccontato delle verità che in pochi conoscono e la sezione Earn che secondo noi è migliore rispetto al supercharger proprio guardate questo video per capire perché l'Earn è migliore io clicco su Earn e come potete vedere posso innanzitutto andare a capire quali sono i token che ho già all'interno del mio portafoglio messi in staking in questo caso vedete io ho Cosmos e Solana con uno staking plessibile e poi ho anche Bitcoin invece con uno staking bloccato di tre mesi infatti dovete capire che abbiamo due opportunità all'interno di Crypto.com usare lo staking plessibile ok oppure usare lo staking bloccato che di solito è un mese o tre mesi qual è la differenza? ho aperto una Crypto qualsiasi, un altcoin qualsiasi in questo caso Mana solo per spiegarvi qual è la differenza poi vi faccio vedere come mettere in staking ok? qui innanzitutto ci dice Crypto.com che alla scadenza del termine il tuo capitale e i guadagni appariranno nella valuta selezionata in questo caso naturalmente appariranno in Mana se io metto Mana e me li ritrovo nel mio wallet ok? flessibile gli asset possono essere prelevati in ogni momento e determinano un guadagno annuo in questo caso pari a 1% per i periodi corrispondenti considerate che le percentuali variano a seconda della Crypto moneta e dal livello che voi avete quindi dalla carta che avete acquistato quando sono invece bloccati quindi un mese e tre mesi gli asset verranno trattenuti per un mese e determineranno un guadagno annuo pari a 2% per il periodo corrispondente quindi la differenza è che nello staking flessibile, nell'Erna flessibile io posso toglierli in qualsiasi momento e mi ritrovo i miei interessi che ho maturato giornalmente o settimanalmente all'interno del portafoglio e non mi vengono tolti nel caso invece dello staking bloccato io non posso toglierli ok? perché vado a perdere in primis il mio interesse che ho generato e di conseguenza devo stare molto attento nel scegliere se voglio uno staking flessibile mensile o trimestrale perché poi lì devo rimanere bloccato e quindi se per esempio io ho comprato mana a un euro faccio un esempio scelgo di mettere lo staking di tre mesi magari questo staking mi dà il 20% anno va bene e io sto generando mana come se non ci fossero domani perché ne ho comprati tanti ma a un certo punto dopo un mese e mezzo mana aumenta di valore in maniera esponenziale magari arriva a valere 10 euro e io ho lo staking bloccato ed è un bel problema mentre nel flessibile magari ho una percentuale più bassa perché non ho il 20% o il 5% io ho comprato i miei mana sempre a un euro ho avuto un po' di ritorno da tutto questo la cosa straordinaria è che posso subito togliergli dallo staking dalla sezione earn flessibile e vendere i miei mana che oggi valgono 10 euro immediatamente e fare un bel gain ecco quindi la cosa importante è capire proprio questa e la scelta va fatta se voi siete bullish su quel token e quindi non me ne frega delle fluttuazioni di mercato perché secondo voi varrà tanto 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 nel corso dei mesi e degli anni quindi a voi non vi interessa e lo fate di 3 mesi in 3 mesi oppure decidete di fare flessibile perché volete fare un gain la via di mezzo potrebbe essere 1 month se voi pensate che dopo un mese ci potrebbero essere delle cose che possono andare ad influire sul prezzo di quel determinato token e infatti in questo video vi facciamo vedere come mettere in staking bloccato un mese Ethereum allora quello che vado a fare è cliccare sul più vi faccio vedere qui ok quindi io clicco sul più fatto questo voi naturalmente vedete il più se avete già messo nella sezione earn alcune cripto se no la prima volta vi fa selezionare subito la criptomoneta in questo caso io vado su Ethereum e vedete ho 3 opportunità lo staking flessibile del 4,5 bloccato 5,5 e 3 mesi 6,5 in questo caso io metto un mese perché Ethereum ha avuto un calo incredibile in questo periodo e secondo noi tra un mese e mezzo ci potrebbero essere delle situazioni naturalmente non sono consigli finanziari perché potremmo sbagliarci di grosso dove Ethereum può aumentare di valore e poi ridiminuire perché la Fed essenzialmente parlerà di nuovo a marzo e se aumenta i tassi di interesse diminuisce di valore quindi stiamo cercando di capire questo inizialmente il nostro interesse era metterlo in staking bloccato 3 mesi ma se possiamo fare il gioco di comprare, vendere a prezzo più alto e poi ricomprare quando si abbassa di nuovo è una cosa che va fatta quindi io vi faccio vedere come possiamo comunque attuare una strategia non super speculativa perché in quel caso lo metto in flessibile e aspetto che aumenta e vendo e ne super bullish perché vogliamo in un momento di mercato molto particolare nonostante secondo noi Ethereum nel corso degli anni varrà tanto tanto e quindi di conseguenza potrebbe anche essere interessante tenerlo bloccato qui ma siccome noi già lo teniamo bloccato ecco ognuno poi va a ragionare sul proprio portafoglio e quindi partecipiamo a Ethereum 2.0 abbiamo fatto altre operazioni da altri lidi oltre crypto.com lo holdiamo magari in un hardware wallet ci sono tante cose che stiamo facendo questo Ethereum invece vogliamo fare proprio questo quindi io vado a selezionare lo staking di un mese ok e clicco su continua fatto questo devo accettare i termini e condizioni comprendo e accetto di non poter prelevare i capitali durante il termine prefissato sono a conoscenza del fatto che i crypto asset non costituiscono moneta legale non sono sostenuti eccetera eccetera clicco su continua vado a selezionare l'asset in questo caso Ethereum ok io metto il massimo in questo caso 1,6 lo vado a depositare mi dice che l'APR quindi il ritorno del 5,5 annuale quindi va diviso nel mese quindi io dovrei fare per sapere quanto guadagno quel mese 5,5 diviso 12 ok e io so quanto guadagno quel mese ma se Ethereum che oggi vale 2k e qualcosa tra un mese varrà 4k io non ho più il 5,5 ma avrò un'altra percentuale va bene che sarà più alta perché Ethereum ha aumentato di valore perché io non è che ricevo in euro l'interesse lo ricevo sempre in Ethereum va bene quindi io ritorno sempre al massimo ritorno sempre qui ritorno sempre a mettere lo staking clicco su conferma ok vado naturalmente a confermare l'identità e mi dice ok hai depositato 1,000 qualcosa Ethereum clicco su qualsiasi punto e me lo ritrovo negli asset dello staking bloccato di un mese ora aggiorno un attimino dovrebbe apparire tra pochissimo ma comunque me lo ritrovo proprio qui quindi se non appare subito dategli un attimino il tempo eccolo qui il mio Ethereum staking quindi nella sezione earn di un mese come potete vedere termina tra 29 giorni io però per 29 giorni per 30 giorni avrò un interesse passivo automatico senza fare niente dal mio Ethereum ok se io clicco su come potete vedere mi fa vedere quanto ho messo in staking quindi mi dà i dettagli l'orario e tutto il resto mi dice anche qual è il valore attuale il totale e il guadagno vedete qui in basso dove c'è scritto guadagno totale mi fa vedere il guadagno che io posso andare a vedere in qualsiasi momento ok considerate che il guadagno mi viene poi inviato direttamente nel mio wallet nella sezione conti cosa importantissima vi faccio vedere invece il discorso relativo agli asset flessibili per esempio Cosmos io ho messo Cosmos nei termini flessibili e qua mi fa vedere Crypto Earn vedete mi viene pagato l'interesse settimanalmente e mi dice quanto ne sto ottenendo di ogni criptomoneta io qui avevo un po' di Cosmos e Solana niente di che li ho messi nello staking flessibile nel frattempo di decidere cosa fare all'interno anche del decentralizzato perché ne ho molti anche lì e sto decidendo se spostarli o continuare a detenerli qui su Crypto.com o su altre app o su altri exchange se io clicco su Cosmos guardate cosa succede è che posso andare a decidere per esempio ecco qui tasto meno ok io se clicco sul tasto meno quindi su Cosmos ho i dettagli se clicco in alto a destra sul tasto meno posso decidere di prelevare le criptovalute vedete mi fa vedere solamente Cosmos e Solana perché sono le uniche due che le uniche due criptovalute che ho nella sezione Crypto Earn messe con lo staking flessibile quindi io seleziono Cosmos e posso decidere di prelevare tutti i miei Atom ok quindi in questo caso ne ho 19 clicco tutto e in questo caso mi dice guarda che però non riceverai alcun guadagno a meno che non vi sia una partecipazione minima di 1,2 Atom essenzialmente mi sta dicendo se tu prelevi tutto da quel momento in poi io non ti posso fare guadagnare più nulla perché te li stai cacciando tutti ok infatti se io lascio 17 vedete che non me lo dice se metto 19 me lo dice tutto qui niente di trascendentale ma se io li voglio prelevare so che non ci guadagnerò più ok quindi mi ritrovo sia gli Atom che hanno il wallet che sono le percentuali che ho già ottenuto sia gli Atom che avevo qui che li posso togliere gratis senza pagare nessuna fisica come non li voglio togliere però non lo faccio ok e questo è quanto se avete dubbi o domande potete fare tutte le domande del caso in basso nei commenti e questo è un po' Grazie a tutti.